Io non sto qua a dire che voglio giocare, che io non ho mai detto a nessuno che voglio giocare, io sto bene, sto a disposizione, mi scade il contratto a giugno e valuterò qualsiasi cosa dovesse uscire, perché così non riesco a starci, perché mi dispiace, sto male io, sto male la gente che mi sta intorno. Ha ragione Zeman quando dice che bisognerebbe gestirlo meglio? Gestire meglio sarebbe un bene per tutti, più che altro avere un po' di rispetto, rispetto perché per quello che ho dato a questa società, a questa squadra, ho cercato sempre di mettere la faccia davanti a tutti. Il presidente Pallotta, tra qualche giorno lui sarà a Roma? Il teremo a Tavorino, io dirò la mia, lui dirò la sua, sperando che tutti escono contenti. Che cosa ti aspetti? Mi aspetto correttezza. Qual è il tuo rapporto con Spalletti? Sì, il rapporto è buongiorno, buonasera, però lo stimo sia come persona che come allenatore, dico alla società Roma di tenerlo in considerazione anche per il futuro. Speravo, speravo, diciamo che tante cose lette sui giornali che me le avessi lette in faccia, quello sì. Perché per quello che ho dato a questa società, a questa squadra, ho cercato sempre di mettere la faccia davanti a tutti. Il presidente Pallotta, tra qualche giorno lui sarà a Roma, il presidente Zeman quando dice che bisognerebbe gestirlo meglio? Gestire meglio sarebbe un bene per tutti, più che altro avere un po' di rispetto. Io non sto qua a dire che voglio giocare, che io non ho mai detto a nessuno che voglio giocare. Io sto bene, sto a disposizione, mi scade il contratto a giugno e valuterò qualsiasi cosa dovesse uscire, perché così non riesco a starci, perché mi dispiace. Sto male io, sto male la gente che mi sta intorno. Ha ragione. C'è Mattavorino, io dirò la mia, lui dirà la sua, sperando che tutti escono contenti. Che cosa ti aspetti? Mi aspetto correttezza.